Ma guardi io posso dire che la lista Anello Musumeci presidente che noi animiamo non ha questi problemi e non penso che si possa mettere in capo a Anello Musumeci la selezione dei singoli candidati dei partiti che lo sostengono penso che si possa invece mettere in capo successivamente a Anello Musumeci la scelta eventualmente dei suoi assessori e della sua squadra perché quello dipende direttamente da lui, credo che invece si possa chiedere ai cittadini di aiutarci a fare la selezione perché comunque loro andranno a votare e perché non è vero che i politici sono tutti uguali e le elezioni sono il momento nel quale i cittadini possono aiutarci a fare una scrematura dei candidati in campo noi chiediamo di non fare qualunquismo, di non dire che i politici sono tutti uguali, che tanto non può cambiare niente chiediamo alla gente di andare a votare, di guardare i curriculum, la storia, i programmi dei singoli candidati e quello che intendono fare per il futuro di questa terra perché poi anche in questa campagna elettorale lasciatemelo dire, colpa della politica sicuramente, ma non solo, si parla solamente di questioni che riguardano le persone, i nomi, i partiti noi vorremmo parlare di temi, di che cosa fare per una terra che rischia di non avere un'altra opportunità dopo l'amministrazione Crocetta se non siamo bravi? Noi siamo venuti oggi al waterfront di Messina, io sono stata a Città del Capo, ho visto il waterfront di Città del Capo penso che questo sia uno scenario più bello di quello che ho visto a Città del Capo, penso che vedere questo degrado e questo schifo quando ci sono altre nazioni in territorio, in teoria anche, diciamo, meno fortunati dei nostri, che hanno costruito le infrastrutture stupende sapere che qui c'è un progetto fermo da sette anni già finanziato, beh, mi fa arrabbiare e penso che, insomma, bisogna dire ai cittadini quelli che hanno fatto sì che questa roba rimanesse in questa condizione, li dovete mandare a casa date l'opportunità a qualcun altro di misurarsi